Ora analizziamo le possibili cause che possono portare alle coliche addominali. La colica addominale si manifesta, come già ricordato e come chiaro anche dal nome, con un forte dolore localizzato nella parte bassa dell'addome. Analizzare in maniera approfondita quali possano essere le cause più sospette e probabili è fondamentale, in quanto la dolenzia addominale può essere segno di patologie anche gravi. Le intolleranze alimentari rappresentano una delle prime cause di dolore addominale a livello intenso. Lo stress, la medicina orientale, afferma che l'intestino rappresenta il secondo cervello dell'essere umano e che raccoglie tantissimi degli stimoli esterni, traducendoli in cambiamenti delle normali funzioni fisiologiche. La regolarità dell'intestino e degli organi che sono legati alla sua efficienza può essere profondamente influenzata dallo stato psicologico e quindi anche dai fenomeni di stress. Molte volte i dolori addominali, anche cronici, possono derivare da una situazione di questo tipo oppure dagli effetti di un cambiamento improvviso della nostra vita quotidiana che magari non è subito percepito come effettivamente stressante, ma dopo un po' di tempo, sì. Patologie gastrointestinali Come accennato nei minuti precedenti, la condizione di dolenzia addominale non deve essere sottovalutata in quanto può essere causata da patologie gastrointestinali anche molto gravi come per esempio il morbo di Crohn, cisti ovariche, infezioni delle vie urinarie, gravidanze, bulimia nervosa. Questo può causare coliche addominali, soprattutto per via dell'eccessiva sollecitazione dell'apparato gastrointestinale eccessivamente stimolato a causa della continua ingestione di cibo in eccesso. Dopo aver analizzato le cause, è opportuno che ti aiuti ad approfondire i sintomi che si caratterizzano soprattutto per il dolore acuto, ma che non si limitano certo a quest'unica manifestazione. I principali sintomi di una colica addominali possono quindi essere Dolore intenso e localizzato all'addome, più spesso si verifica nella parte inferiore, ma può capitare anche nella parte superiore dell'addome. Posizione del tronco in flessione anteriore Indispensabile per avere sollievo dal dolore Impossibilità a compiere sforzi e movimenti o recarsi al lavoro Desiderio di avere una fonte di calore intenso e prolungato sulla parte dolente La bull dell'acqua calda è sempre la scelta più gettonata perché il calore di solito aiuta alla regressione dello spasmo muscolare doloroso Pallore, sensazione di nausea e episodi prolungati di vomito, meteorismo, febbre alta Quando queste condizioni, accompagnate dal già ricordato dolore addominale intenso, si manifestano per più di 2 o 3 giorni È utile prendere i giusti provvedimenti Dal momento che è molto probabile che la causa sia insita in una patologia seria E non semplicemente in un momento di stress Eventualmente contrastabile e modificando solo qualche abitudine quotidiana Se ci si trova davanti a una persona con i sintomi di coliche addominali e ha un attacco molto forte Bisogna evitare alcuni comportamenti che farebbero peggiorare la sua situazione Per esempio, è sufficiente seguire alcune semplici indicazioni Bisogna evitare di far ingerire i cibi nel momento più intenso dell'attacco Evitare di far bere acqua fredda e nemmeno tutta ad un fiato Sistemare la persona in una posizione supina, cioè a pancia in su Slacciare gli abiti che possono rendere difficoltoso il processo di respirazione Evitare di forzare il verificarsi dei fenomeni emetici Far sdraiare la persona in preda alle coliche addominali E porre sul ventre qualcosa di caldo, in modo da accalmare il dolore La posizione fetale, cioè rannicchiata su un fianco, è estremamente utile